Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un nuovo libro, edito in Italia, da Alan Eredizioni, libro di Warhammer 40.000, ovviamente la mia ambientazione spaziale sci-fi preferita, arrivato direttamente dalla Black Library, e vi parlo della Devastazione di Baal, il primo romanzo della nuova epopea della crociata Endomitus, che parla appunto del pianeta natale, il pianeta Baal dei Blood Angels, e della loro crociata, anzi della loro difesa estrema, contro una flotta tiranide, una delle più grosse e più potenti, che stanno appunto conquistando quel settore di spazio, quella parte della nostra galassia. Un romanzo veramente molto bello, e ve ne parlo a breve, dopo la sigla. La Devastazione di Baal, edito in Italia da Alan Eredizioni, che ringrazio per la copia fornita, e soprattutto per l'esemplare lavoro editoriale che stanno facendo, era una vita che aspettavo di leggere i romanzi di Warhammer e Warhammer 40.000 in italiano, come vedete qui davanti a me non ho la copia fisica, perché come già spiegato nel video precedente, inizio ad avere problemi di vista, e davvero, sembrano scherzo, riesco a leggere tranquillamente dal Kindle, ci posso stare anche ore, o anche dal telefonino, se illuminato a dovere, quindi in formato ebook, un libro cartaceo, sarà anche la luce che ci picchia sopra, come mi devo mettere io piegato magari col collo e una cosa n'altra, anche perché leggere da sdraiati è un po' scomodo, mi gira la testa, quindi comunque, i romanzi di cui vi parlerò, e che farò appunto a questi video recensioni, saranno sempre romanzi in formato ebook, però potete ordinare sia la versione ebook che la versione normale, dal sito, usando il mio codice discount, che trovate il primo link in descrizione al video, quindi, quando acquistate dalla Nera Edizioni, usate il mio codice discount, perché non vi fa pagare le spese postali, il romanzo lo pagate appieno, se costa 20 lo pagate 20, ma non pagate le spese postali, e quindi, come vedete, è un buon servizio, è un buon sconto. Parla della devastazione di Bal, si parla del pianeta natale donato da Sanguinius, il primarca dei Blood Angel, ai suoi figli, e si parla forse del capitolo di Space Marine più strano, secondo me, in assoluto, dell'ambientazione di Warhammer 40.000, perché laddove abbiamo gli Ultramarine, l'Ige al Dovere, le Salamandre, l'Ige al Dovere, alla Famiglia e agli Antenati, oppure, dall'altra parte, le Space Wolves, spazi sul campo di battaglia, o l'Imperial Fist, i figli di Rogaldorn, che sono più o meno una variante, anche loro, una specie di Ultramarine, tutti l'Ige al Dovere, e pretoriani di punta dell'Imperatore, i Blood Angel sono stranissimi. Perché non è un capitolo. È un capitolo frammentato in cento sottocapitoli, e a differenza di tanti altri, evitando ovviamente spoiler sul romanzo, non hanno un maestro capitolare. Quindi un maestro capitolare, tipo Marnius Calgar, per gli Ultramarine, loro non ce l'hanno. Gli Ultramarine sono un capitolo con a capo il maestro capitolare Marnius Calgar. I Blood Angel non ce l'hanno. Quello che si avvicina di più a un maestro capitolare di tutto il capitolo è Dante. È un vecchio Space Marine, perché ormai è un grande combattente, che ha visto diverse guerre da diverse migliaia di anni sulle spalle, migliaia, quindi è anziano, perché anche gli Space Marine invecchiano molto più lentamente, però comunque invecchiano anche loro, soprattutto se dall'Adeptus Mechanicus non viene fatta quella specie di lifting, o come lo chiamano, per mantenere appunto il corpo sviluppato, giovane e pronto alla battaglia. Però il comandante Dante è uno Space Marine anziano. È a capo del suo capitolo, o meglio lo riconoscono come maestro capitolare, però ci sono, fate conto, i Blood Angel e ci sono altri 100 capitoli frammentati su D, che fanno tutti quanti i test ai Blood Angel, e non tutti riconoscono Dante come maestro capitolare. Quindi diciamo che è un personaggio che molti rispettano e molti altri no, perché ciascuno di questi sottocapitoli hanno a loro volta il loro maestro capitolare. Quindi, per non parlare poi, che sono delle specie di vampiri, bevano il sangue, vanno in frenesia sul campo di battaglia, che nemmeno i lupi siderali, quindi comunque sono il capitolo più strano, perché sono, secondo me, la via di mezzo fra gli Space Marine dediti all'imperatore, e gli Space Marine dediti al caos. Quindi sono messo nella giusta via di mezzo, infatti non a caso, a livello di lore, i Blood Angel spesso e volentieri sono quelli che più facilmente cedano alla follia, e cedano poi dopo alle lusinghe del caos. Ed è bello questo romanzo, perché gli arriva comunicazione, ovviamente da Augur, Cogitator e flotte in orbita, nei loro possedimenti, nella loro parte di spazio, che una grandissima flotta, la Leviathan, anzi non erro, dei tiranidi, o meglio, non tutta la flotta, perché tutta la flotta conquisterebbe tutta la galassia, un tentacolo della flotta, che basterebbe a conquistare mille pianeti, solo un tentacolo, si sta dirigendo verso il loro settore, verso il pianeta Baal, perché l'intelligenza tiranide ha subito delle perdite, intelligenza collettiva, delle perdite in guerra centinaia di anni fa dai Blood Angel, e non se ne sono dimenticati, e gli vogliono distruggere il pianeta. Quindi questa flotta va verso il pianeta Baal, e Dante, forse maestro capitolare, dei Blood Angel, chiama a raccolta tutti i sottocapitoli, che non tutti aderiscono, perché anche fra di loro hanno delle rivalità, per reggere l'assedio, appunto, sul loro pianeta natale Baal. Il romanzo è veramente spettacolare, è un romanzo che nelle prime, fate conto, su 400-500 pagine quant'è, nelle prime 70-80, c'è la parte politica e delle alleanze al tavolo di guerra, e poi dopo è battaglia, alla Warhammer 40.000, da inizio a fine, e è bellissimo, perché ha un'evoluzione da due colpi di scena, non uno, perché comunque la battaglia viene vinta, sono personaggi, se no il capitolo dei Blood Angel non esisterebbe più, e in Warhammer 40.000 non li potresti schierare sul campo, no, questo no, però comunque la battaglia la vincono, ma come la vincono, con due colpi di scena, il primo, bello, mi è piaciuto tanto, cioè, non ci avrei mai pensato che facessero una cosa del genere, e il secondo, spettacolare, lì davvero pelle d'oca, il secondo è spettacolare, e chi mi conosce, conoscendo i miei gusti, qualcosina si potrà, potrà ammoscarsi appunto, avendo citato La Crociata in Domitus, ed è veramente un bel romanzo, scritto bene, tradotto bene, ogni tanto, o almeno io ho letto l'ebook, c'è qualche errore grammaticale o di impaginazione, anzi, l'impaginazione spesso e volentieri è tutto attaccato, cioè il titolo del capitolo, attaccato alle prime scritte, attaccato ai dialoghi, è un po' strana, come è stato montato l'ebook, però comunque è di chiarissima lettura, tradotto veramente bene, e come sempre, Alaner Edizioni ha fatto un lavoro eccellente, io vi ricordo che se lo volete ordinare, trovate il primo link in descrizione, il mio codice sconto, usatelo sempre su Alaner Edizioni, perché non pagate le spese postali, e il secondo è il link appunto di Alaner Edizioni, per andare ad acquistare da loro, io li ringrazio di cuore, e vi ricordo che io tratto Warhammer 40.000, ma non solo, ma da loro trovate Warhammer 40.000, Warhammer Vecchio Mondo, come i romanzi della Black Library, ed Age of Sigmar, perché hanno fatto uscire anche il primo romanzo, Guerra delle Anime, che poi vi porterò come videorecensione, io li ringrazio ancora una volta, è un onore poter collaborare con loro, ed è un'impresa editoriale senza precedenti, perché io vi ricordo che i vecchi romanzi di Warhammer, la tredicesima legione penale, l'eresia di Horus e tutto quanto, no, l'eresia di Horus no, però altri della Guardia Imperiale, le ho letti 20 anni fa, cioè andava ancora a scuola 20 anni fa, e poi hanno interrotto la serie, invece loro stanno portando gli spettri di Gaunt, stanno portando uno sbotto di roba, e non vedo l'ora che portino anche roba sui nuovi eserciti, come ad esempio le leghe di Votan, o anche la detta Sororitas, che sarebbe interessante leggere un romanzo totalmente dedicato a loro. Ragazzi, che dire, leggete veramente roba di Alanire Edizioni, che è uno spettacolo assurdo. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!